Questo è un concorso internazionale, un premio che viene assegnato tramite concorso, questa è un po' la novità del premio del Molinendo. Sono tutte opere, una per una, che vengono lette dai giurati che tra poco saranno qui sul palco con noi e valutate con un punteggio da uno a dieci. Questa parte della raccolta delle opere che arrivano è curata, sapete benissimo, da Michla Molin. Questo per essere un metodo di valutazione di questo tipo è un premio unico, direi che il posto raro, nel panorama dei premi storici del nostro Paese. Ed è un segno evidente, aggiungo io, di una certa finezza tra il sentimento, la competenza anche scientifica. È un premio, come dicevo prima, piuttosto raro, perché, questo lo scriverò anche, penso che farò per il nostro telegiornale della RAI Toscana, è un premio completamente disinteressante. Qui c'è soltanto un intendimento, che è quello di motivarsi al desiderio di poter esaltare la parte migliore e più profonda degli autori, soprattutto pensando, valutando, insieme all'Otra, al lavoro che vi ha rappresentato, la loro interiorità, che accosta così in questo modo particolare, una certa creatività, certa genialità e anche uno spirito che ciascuno degli autori ha e che in questa maniera è composto in una sintesi abbastanza, direi, precisa e mirabile di valore tra ciò che è umano e ciò che è trascendente. Ricordo che proprio qui su questo palco, nel 1999, quando Mario Ruzzi ebbe ricevuto il premio alla carriera, a un collega di uno dei testi locali nazionali della RAI, disse rispondendo alla sua domanda, non sono stato quest'anno premiato con il premio Nobel, ma qui a Rapolano ho ricevuto il Morimello, che per me è il Nobel italiano. Ricordando Mario Ruzzi che ci ha lasciato qualche anno fa, io farei un applauso perché pensate è rimasto ancora il Presidente onorario di questo palco, di questo palco, di questo palco di gloria, per ricordarle anche per sentire con quale attaccamento, con quale direi quasi di emozione, seguiva questo premio in tutte le sue fasi, prima di arrivare al momento ultimo dell'assegnazione dei premi. Questo premio è un connubio perfetto che devo ancora aggiungere tra la letteratura, tra la poesia e il giornalismo e la giovanissima amministrazione che alla guida del Sindaco, appena trentenne, Emiliano Spano, che è il Sindaco più giovane della provincia di Siena, fa in qualche maniera la tramite tra questo premio e la vera cultura che posso dire il Sindaco ama molto come fondamento di ogni vera civiltà di tutti i popoli. E questo è un premio che è andato a nomi prestigiosi che si sono susseguiti nel corso degli anni, 90, 2000 fino ad oggi. Quanto su questo fatto me ne ricordo al punto, così poi entriamo direttamente nella prima parte della premiazione. Tra tutti voglio ricordare l'ex Presidente della Repubblica, Carlo Anselio Cianchi, e poi partire dagli anni passati, da lo stesso Mario Russi, come gli ho detto che nel 99 è stato premiato, ma anche da Idro Montanelli, colleghi illustri come Enzo Biagi, Enzo Vettiza, Luciano De Crescenzio, Piero Angela e poi Romano Vattaglia, ancora Giorgio Albertazzi, Vincenzo Cerami, Alberto Ronchi che è figura di prestigio nel nostro giornalismo italiano, lo ricordiamo, è mancato poche settimane fa, Maria Luisa Spaziali e Sergio Rubini, insieme ad altri due colleghi premiati recentissimamente, Corrado Augas e Giampaolo Pazza. Questa è una brevissima carrellata per dire di importanza di un teatro come questo e di un avvenimento come questo, che svede passare in questa parte della Toscana, famosa per il culto del volontariato, ma anche per questo premio internazionale, secondo me una bella fetta di quella che è l'Italia più vera e più valida. E adesso che entriamo appunto nella prima parte del nostro premio, questa serata straordinaria e bella, vedremo anche perché, io farei entrare proprio il Presidente del premio e anche il Sindaco di La Romano Terme, Emiliano Spamo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Giulio Lopanzani, giornalista anche a lui, quindi volentieri. Grazie a tutti. 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 Tutte le opere che sono arrivate nel corso di quest'anno. Adesso lascerei la parola per un saluto al Sindaco, Emiliano Spamo. Aperto. Buonasera a tutti e un saluto di benvenuto a tutte le autorità presenti, alla giuria qui presente, a partecipanti e a tutti i cittadini di La Romano Terme da parte dell'amministrazione comunale. Sono passati 14 anni dalla prima edizione del Molinello. In tutti questi anni ho vissuto da cittadino una manifestazione che, con i suoi illustri ospiti e con il livello culturale espresso, ha scritto delle belle pagine nella vita di Racolano. Proprio in questi giorni mi stavo chiedendo cosa ha permesso a questo evento di arrivare ad oggi senza esitazioni, tenendo sempre alto il livello culturale con le più alte cariche dello Stato che attraverso i riconoscimenti che stasera andremo a consegnare continuano a sostenere la causa del nostro paese. La risposta è semplice e l'ho trovata in questi mesi che hanno preceduto questo pomeriggio. Sta nella costanza, nel coraggio, nell'impegno, nella dedizione e l'amore per la cultura che abbia sempre come fine l'obiettivo di diffondere un forte e chiaro messaggio alla nostra società. Perché vi posso assicurare che sarebbe stato molto più semplice e popolare tagliare le gambe a tutto ciò e destinare questo grande impegno su altri orizzonti, ma non è stato fatto. Dobbiamo avere la capacità di tenere vive le une e le altre cose, perché altrimenti un amministratore pubblico, il sindaco, e non me ne voglia nessuno, si metterebbe alla pari di un contabile o di un ragionista. Credo che nel mandato che ci viene conferito dai cittadini ci sia dentro qualcosa di più importante e profondo, da tenere sempre presente ogni volta che ci troviamo a prendere delle decisioni. A questo punto penserete a che cosa possa fare una piccola realtà come Racolani. Non certo risolvere da solo una tendenza sociale di più ampia dimensione. Questo no. Ma il nostro sforzo, a mio avviso, deve servire a dare un contributo fattivo ad una realtà nazionale che piano piano sta dequalificando i momenti di relevanza culturale, abbassando di conseguenza lo stile di vita. Sembra quasi di ripercorrere i periodi della storia in cui il nostro paese viveva momenti difficili, perché si doveva rialzare da conflitti, da fame e da povertà. Quei momenti sono stati affrontati con determinazione e affiancando ad una ricostruzione economica, anche una ricostruzione sociale e culturale. Purtroppo gli errori storici si ripetono e nel momento in cui vengono meno ideali collettivi per dare spazio a forti personalismi il rischio di far avanzare incomprensibili scontri sociali collegati ad una regressione culturale e tangibile. Vi ringrazio quindi nuovamente tutti e come recitava una canzone di una ventiaia di anni fa, non è la fame ma è l'ignoranza che uccide. Buon molinello a tutti.